Sì, ma rispetto alla quale noi abbiamo ritenuto di dover fare un'iniziativa oggi, probabilmente si avvicina la possibilità concreta di discutere il Consiglio regionale di questa proposta grazie al fatto che è stato recentemente dominato il nuovo Presidente di Commissione che si chiama Giacobbe, sostituisce Desiano e quindi, e proprio di oggi lo dirà anche il Consiglio regionale, la sua richiesta di mettere in ordine del giorno della discussione questa proposta di modifica, immaginiamo che quindi i tempi possano essere brevi dunque parliamo di un fatto importante perché passiamo da una proposta alla possibilità concreta di vedere almeno una discussione di Consiglio regionale sul tema fondamentale che riguarda appunto una modifica sostanziale della legge nella direzione della maggiore tutela possibile del territorio. Io mi fermo qua, ringrazio alcuni presenti, tutti presenti per essere intervenuti e passo immediatamente la parola al Consigliere Comunale Alessandro Schisani che ci può illustrare che un po'